Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti a questa seconda conferenza stampa di presentazione del ritiro. Qui ci sono? Presidente Aurelio De Laurentiis che fa gli onori... Uno dei giornalisti disse, ma lei quest'anno De Laurentiis cosa pensa di fare? Fra quelli che potrebbero essere gli addi e quelli che potrebbero essere i sostituti, lei è comunque tranquilla che la rosa sarà competitiva. Ed era una provocazione, allora tu a provocazione rispondi in maniera provocatoria. Comunque possiamo lanciare un messaggio da qui, da questa conferenza stampa, che faremo di tutto per riportare a Napoli lo scudetto. Però, e mi divertì molto a vedere la faccia di Spalletti, perché era come se io avessi detto Luciano, molto ho messo in mano la gloche, posso ho problemi tuoi. Quell'espressione lì è un'espressione facile. Faremo di tutto per riportare lo scudetto. Bene, sono contento, perché ci vogliono poi i calciatori per vincere lo scudetto altrettanto importanti, altrettanto forti. È una cosa normalissima. Grazie. 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 Grazie.